Grayscale vende i suoi bitcoin se la SEC non gli approva l'ETF Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Oggi parliamo di questo problema, quello che potrebbe succedere proprio nei prossimi mesi Se appunto l'ETF non viene approvato, quello di Grayscale Che il prossimo anno, adesso vi faccio vedere, leggeremo tutta la lettera degli investitori Dovrebbe essere approvato o meno, dovrebbe decidere appunto la SEC Se non lo fa vendiamo, allora vendono bitcoin direttamente sul mercato Quindi scrolla tutto, non è così, adesso poi ragioniamo su questa cosa ragazzi Poi ci vediamo questo, poi c'è anche un rimbalzino di bitcoin che però non è tanto tanto ino Cioè comunque è un bel rimbalzo ragazzi che ha portato bitcoin di nuovo intorno alla sua zona delle medie mobili Quindi dopo le disastrose giornate della scorsa settimana che hanno chiuso la scorsa settimana Con una fase ribassista Allora c'è la possibilità ancora di una ripresa di bitcoin nei prossimi giorni Sì c'è un po' una truffetta che il mercato potrebbe fare Di cui parliamo oggi, vi faccio un po' capire una serie di cosette E poi c'è anche un altro grafico che andremo a guardare Cioè quello relativo alla dominance di bitcoin Escluse le stablecoin Che ha una struttura diversa rispetto alla dominance originaria E' anche vero che dovremmo appunto andare a prendere in considerazione Questa dominance un po' di più Perché rispetto agli anni precedenti con l'avvento delle stablecoin Che prima non c'erano così tante, almeno non erano così grosse Soprattutto tether che è diventata grossa Poi si è aggiunta USDC che è praticamente uguale a tether E quindi in pratica andremo a considerare anche le stablecoin escluse La dominance escluse delle stablecoin Per fare un'analisi sulla fase ciclica Detto questo, quindi oggi è tutto in questo video ragazzi Ma partiamo dalla questione del paper digger scale Che è praticamente una lettera agli investitori del fondo famoso ormai Dove loro, dove lo chef Michael Sonnensnay Non so come si pronuncia per essere sincero ragazzi Indica in pratica che una serie di riflessioni Allora fare una serie di riflessioni La prima della quale su FTX Che a me è molto cara ragazzi Perché ancora una volta pone l'accento su questa frase Che era interessantissima Il fallimento di FTX è un fallimento delle persone Non del crypto Allora è una cosa interessantissima questa cosa qui ragazzi Perché devo essere sincero L'analisi tecnica, l'analisi ciclica, l'analisi dei fondamentali Non sono analisi in questo momento Che depongono a favore di un'eventuale ripresa dei mercati E se noi dobbiamo seguire quelli che sono i dati oggettivi Ovviamente ancora una volta Queste analisi indicano che siamo ancora in fase di bear market Profondo rosso è tutto quello che c'è da dire Però c'è da dire un'altra cosa Che l'analisi invece sulla parte emotiva dei mercati Quindi i retail, quelli che fanno il cosiddetto parco buoi Adesso un po' vi accenno al concetto di parco buoi E invece l'unico fattore positivo in questo momento E anche la questione FTX lo ha dimostrato Perché? Perché ragazzi FTX è un fallimento delle persone Non del settore E in questo caso proprio lo chef di Grayscale Lo va addirittura a esplicitare nella lettera agli investitori Ponendolo come uno dei punti da mettere in evidenza Proprio a significare, diciamo a spiegare Che concettualmente non è il settore cripto a essere venuto meno ragazzi Ma semplicemente delle persone che truffavano O hanno utilizzato male questo settore Certo è vero c'è più possibilità qui Perché c'è meno regolamentazione Fermo restando comunque se arrivano gli anni di galera Per Sam & Company Alla fine è la stessa cosa quindi Però in linea di massima Il concetto è che molti retail hanno preso questo fallimento di FTX Come fallimento del settore Lo hanno appioppato al settore Perché hanno detto che le cripto è tutto uno scam La solita ipergeneralizzazione e iper superficialità Che hanno i retail E ha il parco buoi quando affronta un argomento del genere E questo è un campanello d'allarme Cioè un campanello è l'unico dato positivo Perché di solito quando il parco buoi arriva a fare queste cose Siamo vicini alla fine del bear market Che cos'è il parco buoi? La teoria del parco buoi ve la leggete su Wikipedia Io vi accenno al concetto E ha una piccola anche differenza Cioè il parco buoi è il retail O il non professionista del settore degli investimenti Che in pratica arriva sempre alla fine delle bolle Quindi compra ai massimi e vende sempre ai minimi Oppure si disinteressa del mercato ai minimi Proprio quando sta iniziando una nuova fase E i mercati magari i prezzi potrebbero essere un po' più ghiotti Ora fermo restando che io sono trend follower Quindi seguirò comunque i dati sul grafico Quindi trend is my friend Ragazzi a prescindere dalle convinzioni e dalle opinioni Però è ovvio che un po' la pulce nell'orecchio Questa storia di vedere tantissime persone Che si sono disinnamorate del settore Un po' la pulce nell'orecchio me l'ha messa Anche perché il 2018 è stato identico ragazzi Insomma avendo visto decine non lo so 5 o 6 ormai bear market e 9 delle crypto Ne ho visti due però Nelle altre settore ne ho visti tanti E quindi ho detto vabbò un po' la pulce nell'orecchio Io me l'ho messa questa cosa qui E quindi ragazzi Questo è il vero dato secondo me Da prendere in considerazione C'è da dire poi una premessa Una Diciamo sottolineare una cosa Scusate ragazzi Il parco poi secondo me in questo momento Non è quello della definizione del 1980 Cioè il non professional investor Ma è in realtà l'investitore non formato Perché ragazzi magari precedentemente Negli anni passati Chi era formato faceva magari quel lavoro E quindi era il professionista del settore Adesso in sostanza Chi non è formato O chi è formato Può essere anche un semplice investitore Che non fa quello di mestiere Perché le informazioni circolano Alla velocità della luce Non come gli anni 70 e gli anni 80 E quindi ovviamente è più facile Avere accesso alle informazioni Perciò mentre prima si presupponeva Che chi non avesse la formazione E le informazioni fosse appunto Un non professionista Adesso non è detto che sia così Quindi possiamo avere i professionisti O semplicemente gli investitori formati Che hanno studiato Che hanno letto Quindi nel parco poi ci sono chi Oggi nel 2022 Secondo me tutti quelli che hanno Non hanno formazione Non hanno letture alle spalle E non sono persone Che affrontano questo mercato Con la logica E il mindset corretto Da investitore Io nel parco poi Metto quelli Tutti gli altri Hanno chance in più Di vincere Sui mercati finanziari Di sopravvivere Ma anche cavalcare Le grandi onde Anche positive Perciò secondo me Non sono parco poi Quindi parco poi In questo momento È anche fortemente Influenzato Da quelli che sono Dei dati Di natura emotiva Come la questione Dei crash Dei fallimenti E gli scam Quindi quando Gridano insomma All'urlo Dice Ah il settore Tutto uno scam Blah 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 Probabilmente Quello è il parco poi Che urla Ragazzi Quindi io Insomma Almeno io Personalmente Ne tengo conto Anche se sono Trend follower Alla fine Seguo i dati Perché si addice di più A la mia Personale Natura Però Il SEO Di crash scale Lo indica FTX È un fallimento Di persone Ragazzi Non di crypto Dopodiché Vanno avanti E dice che Secondo lui Anche gli istituzionali In questi anni Si sono Avvicendati Nel settore Dell'ecrito E C'è stata una serie Di evoluzioni Dei prodotti Secondo me Sulla evoluzione Dei prodotti Sono d'accordo Sugli istituzionali Un po' meno Perché Gli istituzionali Non hanno Non sono aumentati Secondo me Negli ultimi due anni Nel settore dell'ecrito Bensì Hanno premuto pausa Allora Non dico Che sono andati via Non dico Che non c'è Un adoption Un po' Leggera Di bitcoin Però sicuramente Non è un adoption Di un certo livello Quindi probabilmente Bitcoin in questo momento È messo in disparte Cioè Messo in pausa Non abbandonato Ragazzi Messo in pausa Perché Questa cosa È abbastanza evidente Anche da Alcune questioni Cioè Gli investitori istituzionali Amano Non avere tanti rischi E in questo momento Le growth E le tech Come Assetti di investimento Sono estremamente rischiose Quindi bitcoin È percepito Come un tech E una Asset growth Quindi Via Oppure Non aumento La mia Esplosizione A parte Sales Che Compre sempre Ma potrò Sti soldi Va bene Va bene Dai Detto questo Ragazzi Andiamo avanti Poi c'è la questione Dove Dice Che comunque Se La corte appello Bababa Non approva Il Loro Etf Il prossimo anno Dovranno Vendere Probabilmente Prendere in considerazione L'idea di vendere Il 20% Delle share Delle loro Azioni Ragazzi A questo punto Vi riporto anche La questione Dell'articolo Di Coindesk Che indica Che una Delle opzioni Che potranno Prendere in considerazione Sia Proprio quella Di Fare un'offerta pubblica Per il 20% Delle loro shares Che sono a sconto Del 49% In pratica Siccome non possono Rimborsare Direttamente Gli investitori Vendono Le loro azioni In offerta pubblica A una Terzo E con i soldi Vanno a rimborsare Gli investitori Sarà poi Compito del terzo Capire che ci fa Con queste azioni Eccetera ragazzi E quindi Il concetto Che una cosa del genere Si abbatte Su bitcoin Al momento In maniera Non diretta Ma indiretta E ovvio Che la soluzione Dell'ETF Approvato Dalla SEC Dicono anche Lo chef Dice anche Che hanno Buone probabilità Secondo lui Perché hanno Avuto Una serie Di Consulenze Positive Da studiosi Del termine Per quanto riguarda La regolamentazione Ma dice anche Che se non Ci sarà Quest'ETF In pratica Si allontana La possibilità Del settore Delle cripto Di venire Regolamentato E di essere Adottato Da istituzionali Anche perché Grayscale Parla della questione Degli istituzionali Dicendo che Hanno necessità Di avere Una forte regolamentazione Per la protezione Del loro capitale E proprio Secondo Questo Modo di vedere Diciamo Il settore Ragazzi In maniera Ok Più Ald Più Forse Centralizzata Però concettualmente Più Affine A quelle che sono Gli investitori istituzionali Perché gli investitori istituzionali Degen Probabilmente Già ci sono Nel settore Delle cripto Il problema è che Se vogliamo Attirare investitori Istituzionali Non Degen Ma quelli Normali Loro vogliono Protezione E lo vogliono Non da un settore Decentralizzato Cripto O quant'altro Ma al momento Dal US Financial System Cioè dal sistema Finanziario Centralizzato Old Degli Stati Uniti Che a quel punto Deve regolamentare Quindi è un trade off Vuoi Gli istituzionali Ok O mi regolamenti In maniera forte Oppure io non vengo E Grayscale Fa questa gara Cioè sta facendo Questa gara Di tentare Di far Regolamentare Un po' Tutto il settore Allora Questa è la scommessa A chi piace E a chi no Qual è la vostra opinione Perché Moltissimi dicono Ok Io voglio Che le cripto Vengano adottate Però dall'altra parte Non voglio la regolamentazione Sembrerebbe che In questo momento Della Mondo Diciamo Del pianeta Terra Questa cosa Non sia possibile E quindi Qual è il trade off La coperta corta No ragazzi Qual è il trade off Accettare Una regolamentazione Per avere Un'adoption Istituzionale Attendere Fregarcene Andare Per la nostra strada Non vogliamo la regolamentazione Restiamo piccoli Ma Che ci importa A noi Allora Quale scegliete le due Comunque Un'idea Un'idea Nei commenti Ragazzi Iscrivetele Perché è sempre Estremamente Interessante Vabbè Andiamo Al volo A fare Un leggero briefing Invece sulla questione Ciclica di Bitcoin Leggerissimo Perché tanto ne abbiamo parlato Nel video di ieri Ragazzi Vedetevi il video di ieri Sul canale Per le analisi E poi passiamo Invece a vedere Questa Grafico Che vedremo oggi Che è la Dominance Di Bitcoin Allora ragazzi Qual è la questione In corso Che la possibilità Che su questo Minimo Di lunedì Sia avvenuta La chiusura Del ciclo mensile Di Bitcoin Ciclo che potrebbe Essere iniziato O in questa Anzi no Secondo me Iniziato appunto Il 21 di novembre E se effettivamente È stato chiuso Il ciclo mensile Un po' cortino A 28 giorni Allora A quel punto C'è la possibilità Di vedere Ancora Da qui Iniziare Una nuova struttura Mensile Che possa andare Anche a Tentare Il break Dei precedenti Massimi Quindi in pratica Questa truffetta Che il mercato Potrebbe organizzare Adesso vi faccio capire Come si capisce Questa cosa E come no Potrebbe in pratica Aver dilazionato Spostato Nel tempo In un'eventuale fase Di app Anche perché In realtà Mancavano 1000 dollari Per un target Naturale Di questa fase Di rialzo Che invece Il mercato Non ha fatto Ora Una cosa Del genere È possibile Se sarà così La vedremo Entro i prossimi Giorni Quindi due o tre E poi Soprattutto dal 22 Più Più in là Quindi se questo Rialzo È un'eventuale ci sarà poi da riflettere per oggi diciamo che i giochi sono più o meno fatti perché il mercato ha toccato un massimo di 17.046 insomma è un massimo abbastanza importante in questa giornata quindi poi se ne parla nei giorni dopo quindi questa è la truffetta che potrebbe fare il mercato, la fa o non la fa la vediamo nei prossimi giorni, però è simpatica questa cosa perché ha fatto un fake break in questo caso proprio dell'area di resistenza 17.300 c'è stato sopra 3 giorni e poi è ritornato giù, questo è il classico fake break che a livello di ciclo di time frame settimanale, scusate non è avvenuto, guardate qui il time frame settimanale lo indica no? quando un fake break avviene su un time frame il successivo, quello superiore indica proprio dov'è il fake, vedetelo qui nella shadow, quindi si evince in maniera molto chiara allora andiamo a vedere invece questo grafico concludiamo questo video che è quello della dominanza nella dominanza di bitcoin ragazzi ho fatto un semplice calcolo di natura qualitativa quindi non dettagliato è un po' un calcolo simpatico cioè sono andato a togliere dalla dominanza di bitcoin quella che era la dominanza di USDT per più o meno un coefficiente 2.2 che rappresenta la totale dominanza anche di USDT e un po' DAI quindi in pratica ho fatto il giochino delle tre carte ho fatto un calcolo matematico e ho tolto la dominanza di USDT e di USDC e DAI semplicemente simulandola in maniera derivata da USDT cioè in pratica ho fatto una formula dove ho aumentato la dominanza di USDT per 2 volte punto 2 che rappresenta aggiungere secondo me insomma più o meno quello è stato un giochino insomma aggiungere USDC e DAI e esce fuori quindi una dominanza di bitcoin purificata dalla questione del stable coin e questo è veramente interessante ragazzi ah vi ricordo che in pratica la formula la potete copiare questa qui per avere questo grafico però ricordatevi che in pratica è stata anche ponderata la total market cap cioè noi è dalla total market cap che abbiamo dovuto togliere la capitalizzazione di USDT e poi con il giochino diciamo del fattore anche quella di USDC e DAI e poi abbiamo ricavato la dominanza dalla market cap di bitcoin diviso questo valore che abbiamo trovato allora è più complicato a dirsi che a farsi copiatevi il dato però era giusto per chi magari a livello matematico sa che cos'è quella cosa lì quindi abbiamo in pratica dovuto togliere la USDT e USDC e le stable dalla market cap ragazzi non dalla percentuale quindi in questo caso quindi tolte le stable coin bitcoin ha il 51.82% della total market cap delle criptovalute considerando anche che una buona parte aspetta poi a Binance a Ethereum e il restante piccola parte a Binance capite bene che in pratica se aggiungiamo Ethereum a bitcoin e le tre criptovalute magari escluso le stable principali otteniamo l'80-90% di intera capitalizzazione cioè in pratica il settore delle cripto ragazzi sono 4-5 cripto in totale e poi il resto sono oscillazioni ecco questo è un po' interessante da andare a vedere però a noi ci interessava anche fare un concetto un'analisi di natura ciclica perché l'analisi ciclica fatta così indicherebbe che l'annuale che era iniziato il 17 a questo punto settimana del 17 maggio del 21 dovrebbe essere stato chiuso il settembre del 2022 quindi se purifichiamo quello che è un dato e lo analizziamo in forma escludendo quelle che sono le stable coin il rapporto tra bitcoin e le altre criptovalute indica che da settembre scorso è iniziata una nuova fase di trend al rialzo di bitcoin e quindi di maggiore forza relativa di bitcoin contro le altre cripto lo vedete qui ovviamente in termini medi perché poi ci sono delle cripto che performeranno meglio su bitcoin ma magari hanno una capitalizzazione molto piccola quindi non impatta perciò questo non potete utilizzarlo per fare trading potete solo utilizzarlo per comprendere la natura dell'attuale momento di bitcoin e rispetto all'intero mercato ma per fare trading dovete andare uno ad uno a verificare i grafici delle cripto rispetto a bitcoin quindi non è possibile farlo in quel senso perché lì c'è un concetto diverso che è quello della volatilità della singola criptovaluta però il mercato nella sua interezza configurerebbe un nuovo ciclo annuale proprio iniziato in questa settimana di settembre che quindi è nella sua prima fase e potrebbe perché no addirittura tentare di salire sui massimi e quindi dare forza a bitcoin se così fosse le prossime fasi diciamo di qualche mese 1-2 mesi potremmo assistere anche ad una tentativa di bitcoin di rafforzarsi sulle altre criptovalute le altcoin salendo al di sopra poi dei 57% del mercato c'è da dire che c'era anche un livello vedete qui di estremo supporto poi breccato che è stato questo livello qui 61-60% giusto per intenderci potrebbe perché no essere un livello che attira proprio il mercato quindi bitcoin stesso la forza relativa di bitcoin sull'intero mercato fino alla chiusura di questo nuovo ciclo che avverrà guardate un po' in pratica verso dicembre 2023 quindi prima dell'albini questo è un ciclo nuovo interessante non ci facciamo trading come vi spiegavo ma per guardare l'intero mercato è interessante soprattutto per capire quanto impattano le stablecoin su quello che ci fanno vedere proprio su questi grafici quindi se li andiamo a togliere vediamo che in effetti bitcoin non è poi così debole sui altri mercati e se escludiamo il suo rapporto con ethereum addirittura sarebbe molto forte su tutto il resto delle criptovalute interessante da vedere questa cosa e magari farci anche riflettere sul dire che magari il re tanto morto non è magari un po' dormiente possiamo dire così va bene fatemi sapere anche voi cosa ne pensate come sempre noi ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti l'anima